A fronte dei rischi alla salute derivati dal caldo primente di questa fase di luglio, l'azienda sanitaria territoriale di Peso Urbino attiva da oggi nuove procedure. Prima fra queste, i codici calore. Vale a dire, un percorso assistenziale preferenziale e differenziato con un ambulatorio specifico destinato a tutti coloro che manifestano sintomi di malessere e di malore legate alle alte temperature. Un lavoro preventivo volto a rispondere ai colpi di calore e regolamentare accessi impropri ai servizi d'emergenza. Per evitare che i pazienti vengano con colpi di calore o colpi di sole in pronto soccorso e comunque anche il pronto soccorso si è strutturato per fare fronte alle emergenze gravi. Un percorso calore in cui il pronto soccorso lavora di concerto con le strutture territoriali anche per un'assistenza successiva alla prima urgenza. Ad oggi intanto il pronto soccorso di Pesaro non presenta criticità allarmanti nella gestione degli accessi. Siamo all'inizio nel senso che comunque è iniziato da poco quindi verosimilmente vediamo nel proseguo insomma come andrà. Grosse criticità rispetto al passato onestamente non ne stiamo riscontrando però siamo allerta insomma. Medicina che continua a lavorare anche sulla diffusione dei comportamenti adeguati ad evitare le emergenze. Mi ricordo i consigli della mia nonna che era siciliana insomma anzi era nata a Tripoli quindi insomma di caldo ne capiva e secondo me allora la prima cosa è evitare insomma di esporsi negli orari insomma più caldi quindi dalle 11 mezzogiorno fino alle 4 del pomeriggio. Poi secondariamente insomma bere molto soprattutto quell'acqua che si mangia diceva lei è quell'acqua che comunque noi assumiamo attraverso la frutta perché? Perché innanzitutto è più digeribile e in secondo luogo comunque insomma contiene dei microelementi insomma che noi perdiamo con il sudore. Terzo punto è quello comunque di non aumentare insomma il divario della temperatura tra l'esterno e l'interno con i nostri condizionatori. Quindi usare come ho già detto insomma parecchie volte un deumidificatore piuttosto che il condizionatore avere proprio. Intanto l'azienda sanitaria prepara un servizio aggiuntivo infermieristico per i pazienti da curare con assistenza domiciliare. In caso di criticità ulteriore la regione sta predisponendo pure la riattivazione delle USCA già protagoniste della prima linea della pandemia. Vicina di prossimità che comunque secondo me è anche il futuro voglio dire quindi insomma curare le persone, le cronicità, le persone con quelle fragili insomma a domicilio è sicuramente più efficace, più economico e più confortevole per il paziente.